Adesso i paranzetti, mi metto anche io in un'opera. Vai, com'è vincere tutti questi premi? Stanno dando anche molto sprint ai paranzetti. Io ho già vinto, perché sono contento di tutto l'affetto che mi è arrivato dal pubblico e vi dico che sono veramente contento, senza ipocrisia lo dico che abbia vinto Dio Dato perché si merita di aver preso questo premio che in realtà io ho già vissuto e sono contento per lui perché è un artista veramente completo che canta e scrive canzoni con l'anima quindi sono veramente felice, non me l'aspettavo di tornare al festival e poter arrivare addirittura sul podio al secondo posto. Che bello!